M'è preso un mezzo colpo quando ho acceso la tv, e poi ho incominciato da un minuto poco più. Non ce volevo credere, non poteva essere vero, quando ho visto che il grippo già perdeva più uno a zero, mi si è fatto il mondo nero, ho pensato tal passato, turno in prasettimanale, non c'è mai tanto piaciuto, per fortuna che stavolta si è trattato di sfortuna, se vi è subito che in campo di squadra ce n'erà sol'una. Se mi si è un impegno, ho reagito con passione, ho preso un mano il gioco e hanno stordito il prosinone, dureti degli emmello su altrettanti rigori, poi l'arete di quante testa fatto esplode il curi, adesso che si ragiona, potenti a empoli tranquilli, se la squadra non si perde, se prevedono giorni belli, vince al curi era importante per classifica e morale, soprattutto per i tifosi che se no ci arman con male, forza preghi continuate, che metà l'opera è compiuta, resta l'empoli da parte, il primo posto è alla portata.